E' stata conferita questa mattina la benemerenza per elevati meriti al dottor Umberto Gnudi e alla sua equip sanitaria. L'ex direttore facente funzioni del pronto soccorso di Marche Nord è stata una delle figure manifesto della lotta al covid-19 nella provincia di Pesaro Urbino. Il manifesto di un lavoro massacrante sulla prima linea della pandemia al cospetto di episodi drammatici e senza precedenti, il manifesto anche di una campagna pro vaccino deragliata in polemiche di richiamo nazionali, infine il nodo di una battaglia sanitaria e politica con il congedo più o meno forzato da Marche Nord. Tanti sentimenti ma quello della gratitudine diventa il prevalente nel giorno della benemerenza. La gratitudine perché è un ringraziamento della città al lavoro che abbiamo fatto e quindi sono lieto di questo e sono lieto di essere qui assieme ai miei colleghi che lo meritano almeno altrettanto e quindi è una cosa bella. In comune al fianco di Gnudi parte di quella squadra del pronto soccorso, il dottor Giovanni Polidoro, gli infermieri Marco Spinaci, Lucia Zini e Marianna Lucchena, Leos, Tiziana Marte e Cristina Casacu. Rispetto a quel periodo di fine febbraio, inizio marzo, i ricordi sono anche piuttosto confusi perché si fa fatica a dividere le giornate. Il mio ricordo è quello di un unico giorno eterno e senza soluzione di continuità e ricordo gli episodi, ricordo le persone, i volti delle persone, dei pazienti, di quelli che non ce l'hanno fatta, tante cose, tante cose. È una cosa che non dimenticheremo ed è una cosa, noi abbiamo visto delle cose che è difficile anche raccontare, è difficile far credere a chi non le ha viste come sia andato veramente. Gratitudine e rabbia, i sentimenti in conflitto per Matteo Ricci che più di tutti ha promosso questo riconoscimento. Se non avessimo avuto questi medici così dediti alla causa e competenti avremmo probabilmente avuto ancora più morti e ancora più dolore, quindi grazie, grazie, grazie. E dall'altra un po' di rabbia perché perdiamo l'ennesimo medico di valore che decide di andare a lavorare altrove e vediamo che i problemi del pronto soccorso invece di migliorare aumentano, continua a mancare il personale e si continua anche a far finta che va tutto bene, questa è la cosa che un po' più mi dispiace, addirittura non si difende neanche l'azienda ospedaliera per la quale ci siamo battuti tanto. Gnudi è di fatto in ferie da inizio aprile, periodo in cui arrivò la discussa separazione da Marche Nord. Ciascuno fa le proprie scelte, io sono stato nominato direttore per una scelta dei vertici di Marche Nord, direttore facente funzione per una scelta dei vertici di Marche Nord, ho cercato di fare il mio lavoro meglio che ho potuto, successivamente sono state fatte altre scelte e io prendo atto di queste scelte, non posso criticare, non è il mio lavoro, io sono a un livello diverso e tante cose non le conosco, non le vedo, quindi i motivi per queste scelte magari a me possono essere oscuri, ma sicuramente ci sono. L'ultimo anno è stato anche di lotta a un doppio stress, quello usurante di un pronto soccorso ridotto sempre più allo stremo delle forze d'organico, ma pure quello di una inattesa sovraesposizione mediatica. Ho cercato anche di smussare, di ridurre questa esposizione, ho cercato di commentare il meno possibile e adesso sono qui solo appunto per la benemerenza, però ho cercato di tirarmi un po' fuori da questo giro, proprio perché lo ritengo eccessivo, in realtà io non credo di avere né fatto né detto cose particolari, ho fatto il mio lavoro, come detto ho cercato di farlo al meglio e assieme a delle persone meravigliose che ci hanno permesso di ottenere un risultato incredibile, perché se mi avessero detto un mese prima, se mi avessero detto guarda succederà questa cosa qui, fammi un pronostico, ce la potete fare? Io ho detto no, non ce la possiamo fare, è una roba troppo grossa, troppo grossa per noi, invece ce l'abbiamo fatta, di questo sono orgoglioso.